Eccoci qua di nuovo in Viale Pretoriano, è l'ennesima volta che facciamo questo video. Come vedete, qui sta ridiventando di nuovo un villaggio, una cosa terribile, adesso vi faccio lo zoom e non mi posso tanto avvicinare perché sono tante persone, parliamo di circa al momento i posti sono, vedete, sono dei villaggi, adesso mi sposto velocemente perché siamo a rischio siamo a rischio forte qui, situazione molto pericolosa, quindi vi chiedo di pazientare perché si rischia veramente tanto qua, sono tante persone, Viale Pretoriano, Castro Pretorio, Esquilino, il comitato c'è, combatte, vedete qui ci sono tutti i resti del mangiare, gli hanno messo le buste, è una cosa proprio, c'è, ma dove stiamo signori, basta, dove siamo, grazie.